A bordo c'era questo ferito che abbiamo visto, valutato, secondo quelle che sono le normali regole del primo soccorso, quindi poi trattato per come potevamo trattarlo a bordo e poi provveduto ad allertare affinché fosse evacuato tramite una aeromedical evacuation. Grazie a tutti. Il nostro obiettivo qui in mare è garantire la libertà di navigazione.